Per me Luigi non è pronto per fare il confronto. Innanzitutto abbiamo già avuto una bellissima prova della capacità di governo dei Cinque Stelle. A Roma è stato un trionfo. A Roma da quando si sono insediati i Cinque Stelle hanno organizzato un bel picnic al Campidoglio, lei ricorda, sono andati con il panierino, amici, parenti, compagni di merenda, tutti lì appollaiati sugli scranni del Campidoglio a fare una bella festa. Ora, anche qui dobbiamo avere misura, dobbiamo avere serietà. Non è che si possa chiedere a un'amministrazione appena insediata di risolvere problemi storici. Però alcuni momenti di gloria li hanno prodotti. Questo bisogna dirlo. Cose che si potevano fare. La prima che io ho contestato alla Raggi era di aver mentito ai cittadini romani. Ha detto che avrebbe presentato la giunta prima del voto e non lo ha fatto. Ed era già un primo segnale. Voglio vedere che cosa avrebbero detto i romani se avesse presentato la sua giunta con dentro l'assessore all'ambiente appena nominata, tale Muraro. E dopo di che ci hanno messo 20 giorni per nominare la giunta, è stata l'ultima città d'Italia. Dopo di che fa le dichiarazioni programmatiche e fa il copia e incolla di altri comizi fatti. Questa è un'abitudine ai 5 Stelle, anche in Consiglio regionale. C'è uno che parla e dice sempre le stesse cose. Cambia solo il titolo. Cambia l'oggetto dell'intervento, ma poi l'intervento è sempre quello. Noi siamo contro la casta, l'onestà, la trasparenza. Noi siamo i migliori, noi siamo bravi. Dopo di che, ecco, questa è una cosa invece di cui è pienamente responsabile il sindaco di Roma. Tu nomini assessore all'ambiente niente di meno che una signora che è stata consulente dell'azienda di polizia di Roma per dieci anni. Uè! Che credo abbia, leggiamo dai giornali, guadagnato un milione di euro come consulente. Ariuè! Vi ricordate il coro che hanno fatto in Campidoglio? Onestà, onestà, bravi. Bravi. E come facciamo a non complimentarci con Luigi Di Maio, con la Raggi, con questi? Dunque oggi ci troviamo in questa situazione. Disastro dei rifiuti e chi prendono a risolvere il problema? Quella che faceva la consulente dell'azienda dei rifiuti. Perdonatemi, ho una certa età, quindi faccio fatica ad abituarmi a queste cose scriteriate. A me pare una cosa indecente, stupida, non ragionevole. Questo sarebbe il rinnovamento. Allora, diamo tempo al tempo. Più passa il tempo, più hanno modo per screditarsi, volevo dire un altro screditarsi. Quindi va bene così. Intanto prendiamo atto del fatto che hanno detto una cosa, hanno fatto un'altra, che hanno scelto un assessore che anziché essere l'innovazione, è esattamente la continuità. Era una dei responsabili dell'azienda di polizia di Roma. Poi hanno, credo, nominato, stiano per nominare, al posto del vecchio responsabile dell'AMA, un commercialista di Milano, esperto nella liquidazione delle aziende. Pensate che messaggio di fiducia arriverà a tutti i dipendenti dell'AMA, con quale stato d'animo lavoreranno. Questo, io presumo, ci metterà due anni solo per capire dove si trova quando scenderà da Milano a Roma. Due anni solo per orientarsi, diciamo, tra Stevere e Testaccio. Allora, veramente un trionfo. Dunque, io capisco che Di Maio, nostro amico Luigino, non abbia voglia di fare un confronto pubblico che io gli risollecito sui temi della trasparenza, dell'onestà, onestà, onestà e soprattutto sui temi della concretezza amministrativa. Allora, perché merita un commento quello che ha detto Luigino? Perché ha detto non vale la pena perché tanto alla regione campana non c'è niente da commentare, non si è fatto niente. Ah, 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 e qui ha sbagliato. E ci è cascato di nuovo. Allora, premesso che io ho sempre un'arma nucleare nei confronti di Luigi Di Maio, e se mi fa arrabbiare, la uso, l'arma che posso adoperare è quella di ripetere in pubblico il suo curriculum. basta leggerlo. Io lo reggo, è veramente un colpo micidiale. Micidiale, ricordate Stuart al San Paolo, Manovale, e non so che faceva, eccetera, eccetera, fino ad approdare al nulla. Al nulla. Alla dimensione di sfaccendato. Non ha studiato, si è laureato, non ha lavorato, però si candida a fare il presidente del consiglio. Gesù Giuseppe, no, 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 guardate qui. Questo è, questo si chiama cirquequestre. Questo giovanotto, diciamo, è espressione di quella qualità umana che Edoardo De Filippo definiva la ciucciaria. Ciucciaria, ecco, in termini tecnici. Allora, mi ha offerto un'altra occasione, un altro argomento di cui dibattere in un confronto pubblico al quale lo invito ancora una volta, e cioè le politiche della regione Campania. Ho visto che ha fatto queste dichiarazioni mentre era in visita dai vigili del fuoco. la prima cosa che poteva apprendere è che abbiamo appena fatto una convenzione con i vigili del fuoco per metterli al lavoro e a terra di fuoco. Poteva anche sapere che abbiamo dato una decina di mezzi per lo spegnimento degli incendi ai vigili del fuoco e altri, credo, 90 ne acquisteremo. Quindi siamo impegnati. Allora, se mi dà la consolazione di un dibattito pubblico, io con molta serenità gli farò i miei complimenti per il trionfo romano della Muraro e degli ambienti e dei rifiuti. E poi gli spiegherò pacatamente quello che abbiamo fatto in dieci mesi per la sanità, per i trasporti, per l'ambiente, per i fondi europei, per la cultura, in maniera tale che possa apprendere qualcosa. E poi mi piacerà fare un dibattito di merito con Luigino sul reddito di cittadinanza. Questa è una cosa che mi riempie di emozione, il reddito di cittadinanza. Perché a spiegarlo poi vengono fuori tante di quelle scemenze che... Quando uno ha finito di ascoltarli diceva, vabbè, stammi bene, vatti a fare un altro viaggio in Valenzia, aggazzali, lo hanno cacciato, lo sapete? Vabbè... Vabbè...